Omenia ha acceso il suo Natale, ieri una domenica di festa per il capoluogo del Cusio che ha ufficialmente dato il via ai festeggiamenti per il momento più bello, magico e speciale dell'anno. Protagoniste, i bambini che da sempre aspettano il Natale per condividere sogni, speranze e desideri. La parata per l'estrarre della città delle varie società sportive ed associazioni ha dato il la alla domenica di festa con i ragazzi della CCR che hanno curato l'animazione dal palchetto di piazza Salera. Poi l'accensione simbolica ed istantanea davanti al municipio e nelle frazioni degli alberi di Natale e delle luminarie. Non mancano anche renne, stelle e varie decorazioni in tutta la città. Aperta la pista di pattinaggio galleggiante collocata nello specchio d'acqua antistante ai giardini, palazzo di città e piazza Salera. Una pista in tefro, una zero impatto energetico ed ambientale che ha già richiamato decine di persone a pattinare in uno scenario oggettivamente con pochi uguali. Abbiamo iniziato partendo dalla casa di riposo Massimo Lagostina con una rappresentanza di tutti i ragazzi giovani e molto giovani di Omenia che sono impegnati nelle attività più diverse, dallo sport al consiglio comunale dei ragazzi al volontariato come i Boy Scout. Abbiamo voluto proprio così testimoniare questa vicinanza tra le generazioni. è un Natale che vuole coinvolgere tutta la città, sia da un punto di vista generazionale che da un punto di vista geografico. Ci colleghiamo con tutti i quartieri, ognuno di loro avrà preparato un albero di Natale, ci collegheremo, faremo lanciare un razzo che vedremo dal centro della città e loro accenderanno il loro albero. Quindi simbolicamente ci uniamo tutti insieme in questa inaugurazione delle feste del Natale. Grazie. Grazie.